mi aspettavo un bel film c'erano tutti i presupposti per trovare qualcosa di più che buono in realtà ho trovato un grandissimo grandissimo film adesso sigla e poi ve ne parlo ed allora bentrovati in questa nuova video recensione prima di iniziare come sempre ad inizio video vi ricordo le cose alle quali tengo particolarmente la prima iscrivetevi al canale ed attivate la campanella in modo tale da aiutarmi a far crescere ancora di più il canale ed inoltre in questo modo rimarrete aggiornati su tutti i prossimi contenuti quindi cliccate sul tasto iscriviti e cliccate sulla campanella inoltre se mi volete ulteriormente supportare a costo zero semplicemente facendo i vostri acquisti su amazon io vi invito a farli utilizzando il link che trovate qui sotto in descrizione perché è un mio link di affiliazione e se voi lo utilizzate per qualunque vostro acquisto a voi non cambia nulla non spenderete un centesimo in più qualunque siano i vostri acquisti anche non necessariamente a tema cinema ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata da amazon al sottoscritto quindi qualunque acquisto dovrete fare io vi invito a farlo partendo dal link che trovate qui sotto in descrizione ed infine vi ricordo anche di scaricare la app i'm watching anche qui il link lo trovate qui sotto sia per android sia per ios ed è un'app che vi permetterà di fare delle ricerche sui film di cui parliamo magari qui nel canale potete fare ricerche sulla base di attori registi generi cinematografici potete scrivere le vostre recensioni lasciare i vostri giudizi creare le vostre personali playlist e se volete mi potete seguire anche lì perché mi trovate come dr cinema quindi i'm watching link in descrizione scaricatela ed eventualmente ci becchiamo anche lì ma passiamo a parlare appunto del film di cui voglio realizzare la recensione un film che è uscito da diversi giorni sulla piattaforma di streaming apple tv plus e purtroppo soltanto lì perlomeno qui in italia perché a quanto pare non ci sarà una distribuzione a livello cinematografico non è un film che arriverà nelle sale perlomeno questo è questa la situazione nel momento in cui sto registrando questo video e ve lo dico è davvero un gran peccato perché è davvero un grandissimo grandissimo film e non oso immaginare quello che potrebbe essere l'impatto della visione di un film del genere proprio in una sala cinematografica come potete vedere dal titolo del video oggi parleremo di the tragedy of macbeth di joel cohen che ovviamente è uno dei fratelli cohen soltanto che con questo film si è separato artisticamente dal fratello e ha deciso di realizzare un film per conto suo quindi da solo e dall'alto facendo centro al primo colpo in maniera eclatante davvero in maniera eclatante allora io chiaramente parlerò di questo film in maniera libera diciamo non farò spoiler però stiamo parlando del macbeth quindi un'opera letteraria che ha qualche centinaio di anni quindi parlare di spoiler diciamo che è anche relativo però ecco non andrò ad approfondire sicuramente in maniera volontaria però vi avviso potrebbe scapparmi magari qualche riferimento a qualche scena qualche sequenza ad un determinato momento della storia però davvero credo che non sia importante proprio la storia in sé per sé cioè non è che è importante sapere come va a finire macbeth o meno è davvero un'opera talmente famosa che magari molti di voi l'avranno letta riletta o comunque conosceranno la storia nelle sue linee generali voglio darlo per scontato ecco mi perdonerete ma ecco non voglio non voglio pensare che anche per il macbeth ci possa essere spoiler di cosa parla in generale comunque quest'opera quest'opera di shakespeare ovviamente parla di questo quest'uomo questo diciamo uomo importante macbeth appunto che aspira al trono d'inghilterra riesce a diventare re d'inghilterra e una volta diventato regnante dovrà fare i conti anche con tutta una serie di invidie con tutta una serie anche di pericoli dettati soprattutto da quelli che erano e sono i figli del vecchio re che ambiscono chiaramente alla corona tanto che infatti macbeth dovrà fare i conti con tradimenti dovrà fare i conti con persone che vogliono la sua testa e chiaramente lui sarà anche costretto a portare avanti un comportamento feroce nei confronti di chi vuole il suo male anche per difendere la sua amata la sua donna lady macbeth con poi un'evoluzione della storia appunto che non vi voglio raccontare non per non fare spoiler ma perché tutto sommato ecco voglio lasciare un minimo di curiosità a chi il macbeth non dovesse averlo mai letto ora io ve lo dico io non ho mai letto l'opera di shakespeare in maniera integrale l'ho studiata al liceo l'ho studiata quindi in ambito scolastico non è che io sia stato mai anche un grande amante della letteratura inglese lo devo ammettere ho sempre preferito la letteratura italiana l'ho sempre trovata molto più affascinante di quella inglese però è ovvio stiamo parlando di shakespeare stiamo parlando di una delle opere più importanti di shakespeare quindi sarebbe folle anche come dire negare quella che è l'importanza di un'opera letteraria come appunto il macbeth macbeth che tra l'altro nel corso degli anni nel corso dei decenni in realtà ha già come dire attraversato delle fasi di trasposizione al cinema tra l'altro una neanche tanto tempo fa con la presenza di michael fassbender per esempio però ecco questo film si presentava con tutte le caratteristiche come dire interessanti per andare a suscitare anche il mio interesse proprio un interesse di una persona che non ha voluto mai comunque approfondire il mondo della letteratura inglese né tantomeno appunto il macbeth perché perché innanzitutto abbiamo la presenza di un regista comunque valido e pur vero che fino ad ora joel cohen ha lavorato in coppia con il fratello etan però è anche vero che per esempio andando a prendere in considerazione i film dei fratelli cohen molto spesso si va a vedere come la regia perlomeno ufficialmente sia firmata soltanto da uno dei due però è chiaro poi i due lavoravano in coppia penso che continueranno a lavorare non so se decideranno di realizzare altri film insieme in questo caso invece abbiamo soltanto joel cohen però è ovvio che stiamo parlando appunto di uno dei due fratelli cohen quindi uno dei registi più importanti degli ultimi 30 anni che ha avuto la capacità di realizzare secondo me anche dei capolavori o comunque dei grandissimi film che sono diventati iconici la fargo il grande le boschi non è un paese per vecchi e via dicendo quindi già questo era sicuramente un elemento che mi aveva in qualche modo stuzzicato poi un'altra cosa che chiaramente aveva attirato la mia attenzione è la presenza nel cast di due grandissimi attori tra l'altro premi oscar a profusione perché abbiamo denzel washington nei panni appunto di macbeth e francis mcdormand nei panni di lady macbeth ma in realtà nel cast ci sono comunque altri attori interessanti tra l'altro un paio di questi arrivano tra virgolette arrivano dal mondo di harry potter nel senso che abbiamo harry mailing che interpretava il cugino darsley per intenderci e abbiamo anche brendan glison che interpretava malocchio mudi tra gli altri ripeto perché poi il cast è comunque ricco particolarmente folto di anche con attori non particolarmente famosi ma ci arriveremo tra poco come ho detto nell'intro di questo video davvero mi aspettavo di trovare qualcosa di buono anche dando un'occhiata al trailer dando un'occhiata anche alle prime immagini promozionali un film che si presenta in bianco e nero mi aspettavo qualcosa di buono ho trovato davvero un grandissimo grandissimo film ora non voglio esagerare non voglio neanche in qualche modo sbilanciarmi più di tanto anche perché ancora mi mancano diversi film di questa stagione cinematografica ma ho la sensazione di essermi ritrovato di fronte con questo film al miglior film di questa stagione cinematografica perlomeno fino ad ora perlomeno fino ad ora una grandissima pellicola un film che mi ha totalmente rapito mi ha conquistato e ripeto è stato in grado di avere questo effetto in una persona che non ha mai avuto l'interesse di approfondire la letteratura inglese non ho mai studiato in maniera particolarmente come dire approfondita Shakespeare le sue opere le ho chiaramente studiate come dicevo al liceo ma poco altro poi non ho più approfondito per anni e anni quelle che sono appunto le opere shakespeariane però dicevo questo film è stato in grado di avvinghiarmi totalmente è stato in grado di catturare la mia attenzione fin da subito e non l'ha mollata più dura un'ora e quaranta quindi neanche tantissimo bisogna dire ed è un film che secondo me farà parlare di sé nelle prossime rassegne cinematografiche per quanto riguarda le prossime premiazioni cinematografiche anche perché io al momento posso dire ancora a caldo perché sono passati davvero pochissimi giorni da quando ho avuto la possibilità di guardarlo e ripeto mi dispiace che sia presente soltanto su apple tv plus per adesso dicevo a caldo non riesco a trovare ancora delle criticità anzi più ci penso più penso a questo film più lo vado metabolizzando ed interiorizzando più mi rendo conto di aver assistito probabilità ad una vera e propria opera d'arte non riesco a trovare una definizione diversa per the tragedy of macbeth di joel cohen i punti di forza sono innumerevoli sono innumerevoli davvero innanzitutto la regia ora joel cohen non mi ha sorpreso perché o meglio sì mi ha sorpreso però ecco partiva già da una posizione privilegiata perché appunto è un un regista che ho avuto modo di apprezzare diverse volte in compagnia del fratello è un film è un regista che ha realizzato dei film davvero grandiosi quindi è chiaro che non ho come dire non mi sono approcciato alla film di joel cohen in maniera totalmente naive però è anche vero che in questo film lui lavora da solo è stato come dire coinvolto anche in un progetto tutto sommato diverso da quelli che erano stati film che aveva realizzato fino ad ora ed è stato in grado di realizzare qualcosa di incredibile da un punto di vista registico perché ogni singola inquadratura di questo film per me potrebbe tranquillamente essere considerato una sorta di dipinto probabilmente poi entreranno in gioco altri fattori ma proprio la la messa in scena la le inquadrature i movimenti di macchina di questa pellicola sono qualcosa di sublime ogni inquadratura potrebbe fare storia a sé ogni inquadratura potrebbe essere quasi studiata dovrebbe essere ammirata come se fosse un dipinto meraviglioso davvero la regia di joel cohen è strabiliante strabiliante cioè non vorrei che tra i due magari il fratello come dire maggiormente dotato da un punto di vista registico fosse proprio lui e quindi ha deciso in qualche modo di cimentarsi da solo nella realizzazione di un film bravissimo io non ho cosa dire sono rimasto ammaliato incantato si rimane ipnotizzati da quelle che sono le scene di questo film da quelle che sono appunto le inquadrature ci sono alcune inquadrature che davvero mettono i brividi per la bellezza anche per le per il fatto di essere particolarmente inquietanti perché si si trema io non saprei neanche definire questo film è chiaro che è un film drammatico perché è una tragedia una delle più famose tragedie shakespeariane ma ha anche un sapore vagamente inquietante appunto un sapore vagamente horror chiaramente non è un film horror macbeth non è un film horror però ci sono tutta una serie appunto di caratteristiche soprattutto estetiche soprattutto appunto visive di messa in scena che richiamano anche l'espressionismo richiamano tutta una serie di film del passato anche di molti anni fa appunto di decenni fa che mi fa sì che questo film risulti essere un film a tutto tondo un film a 360 gradi quasi perfetto ripeto in questo momento io non riesco a trovare delle criticità quindi non me ne sentirete elencare neanche una in questa video recensione ma la regia di joel cohen è da applausi da applausi davvero aspetto davvero le candidature agli oscar perché mi aspetto che lui sia presente sicuramente nel momento in cui sto registrando chiaramente ancora gli oscar non si sono non si sono svolti non sono state neanche pubblicate le candidature quindi staremo a vedere ma davvero grandissimo grandissimo lavoro di joel cohen che ha dimostrato di avere una sensibilità alla macchina da presa che forse non si era mai notata fino ad ora neanche nei migliori film dei fratelli cohen quindi sorpresona prima grande sorpresa di questo film parallelamente a questo chiaramente bisogna anche considerare quella che è la fotografia è chiaro che il film è stato realizzato in bianco e nero e la scelta del bianco e nero solitamente può portare secondo me a due risultati da una parte si rischia l'appiattimento completo di quella che l'ha messa in scena perché il bianco e nero comunque può essere considerata anche in alcuni casi una scelta di comodo proprio per andare magari a mascherare determinate lacune proprio nella presenza di quelle che sono le scenografie alle quali arriveremo fra poco però in realtà in altri casi o meglio all'opposto il bianco e nero deve essere diciamo deve essere gestito alla perfezione proprio perché è una scelta che deve in qualche modo andare ad esaltare quella che l'ha messa in scena deve andare ad esaltare le scenografie gli attori in realtà pure quindi è una scelta che deve essere misurata deve essere portata avanti con equilibrio perché il risultato finale paradossalmente potrebbe anche essere nettamente migliore di quello che si otterrebbe attraverso la come dire la presenza dei colori quindi nel film di appunto the tragedy of macbeth il bianco e nero secondo me è perfetto è stata una scelta ponderata sicuramente ed è stata una scelta perfetta proprio per andare ad esaltare quelle che sono le atmosfere del film proprio per andare nuovamente lo dico ad esaltare anche quel senso di angoscia di inquietudine che si respira dall'inizio alla fine ci sono dei personaggi ci sono dei momenti delle sequenze che davvero mi hanno fatto quasi appunto respirare un'aria horror un'atmosfera horror e a parte questo comunque a parte questo il bianco e nero è davvero in grado di andare in qualche modo proprio ad esaltare la bellezza di tutto quello che viene mostrato nel film di tutto di tutti gli elementi scenografici di quelli che appunto sono i personaggi tutti gli oggetti di scena tutto quello che c'è nel film viene esaltato da un bianco e nero perfetto quindi applausi al direttore della fotografia di questo film perché ha fatto un lavoro eccezionale chiaramente dico come dire insieme anche al regista insieme a tutto lo staff del film ma la fotografia di questo film è spaventosamente perfetta non riesco a trovare altre parole meravigliosa ci sono delle tra l'altro delle scene dei momenti ben precisi nel film che rendono come dire alla perfezione probabilmente proprio perché sono in bianco e nero a colori avrebbe avuto un risultato diverso avrebbero portato ad una sensazione diversa forse anche la maestosità del film la maestosità di determinate scene sarebbe stata presente lo stesso forse ma non come è successo in questo film cioè non con la presenza del bianco e nero il bianco e nero in qualche modo va ad esaltare la meravigliosa bellezza di questa pellicola quindi una scelta azzeccata una scelta portata avanti con razziocinio scelta portata avanti chiaramente con equilibrio meravigliosa la scelta del bianco e nero ma è chiaro che la fotografia non è soltanto il colore cioè nel senso non è soltanto il bianco e nero stop bisogna anche saper gestire la luminosità delle scene la necessità anche di andare a far scontrare a far contrastare tra di loro delle porzioni di come dire di scena magari meno illuminata rispetto ad altre che sono maggiormente illuminate questo anche per portare allo spettatore quasi in maniera inconscia un messaggio proprio per farci capire che cosa sta avvenendo durante lo svolgimento della storia quindi non diciamo non limitiamo la fotografia soltanto al bianco e nero così come nei film a colori la fotografia non è soltanto la presenza dei colori o la gestione dei colori è tutta una serie di cose che vanno al di là di questo quindi la gestione dell'appunto della della luce la gestione della dei colori stessi ma anche proprio la gestione di quelle che sono le componenti presenti in scena che devono essere esaltate o magari messe in ombra a seconda della della situazione e a seconda proprio del messaggio che si vuole inviare perfetta fotografia perfetta non ho altro da dire per quanto riguarda questo film a tutto questo si associa anche appunto come ho già detto poc'anzi la presenza di scenografie che tolgono il fiato un film che viene in qualche modo ambientato prevalentemente in ambienti interni quindi il castello soprattutto di macbeth ma ci sono dei momenti anche in esterna che davvero anche in questo caso mi hanno fatto ripensare a quelli che sono i grandi capolavori del genere horror soprattutto ripeto dei primi del novecento dell'espressionismo ma in realtà con dei riferimenti anche ad alcuni horror più recenti mi diciamo mi è balenato in mente per esempio The Lighthouse di Robert Eggers il quale ha voluto anche in quel caso fare una scelta ben precisa nell'utilizzo del bianco e nero e qui credo che la cosa si sia ripetuta proprio perché queste queste lande deserte queste lande desolate all'esterno del castello vanno poi a contrastare con quella che è la magnificenza stessa del castello di macbeth e davvero le scenografie sono pazzesche pazzesche davvero è un lavoro che è stato portato avanti da Joel Cohen chiaramente anche in questo caso e con il suo staff che è da applausi anche in questo caso mi aspetto il meglio possibile da quelle che sono le future premiazioni poi è un film che funziona meravigliosamente anche per quanto riguarda il ritmo e non era facile non era facile perché come ho già detto è chiaro che la tragedia del macbeth di shakespeare si è stata tante volte trasposta a livello cinematografico oltre che chiaramente a livello teatrale però non è mai facile con questo tipo di opere riuscire ad arrivare ad un pubblico quanto più ampio possibile e voglio ulteriormente sottolineare quello che è il mio caso perché io non ho mai avuto un grande amore una grande passione per quella che la letteratura inglese e quindi anche per le tragedie shakespeariane le ho dovute studiare da ragazzo le conosco nelle linee generali soprattutto ma non ho mai avuto una grande un grande stimolo ad approfondirle non ho mai voluto approfondirle più di tanto non ho mai voluto leggerle in questo film però io sono come dire sono rimasto totalmente colpito sono rimasto totalmente intrappolato da quella che è la storia che mi viene raccontata perché viene raccontata in una maniera avvincente come se fossimo di fronte ad un thriller fondamentalmente perché poi il macbeth è un thriller se lo vogliamo considerare in maniera moderna ora io non ho idea in realtà di quella che possa essere la verosimiglianza e la come dire la vicinanza da un punto di vista strettamente narrativo a quella che è l'opera originale quindi non so se da un punto di vista della sceneggiatura i sceneggiatori si siano presi delle libertà creative non ne ho idea perché ripeto non ho mai letto il macbeth quindi non so quanto sia fedele questo film all'opera shakespeariana ma come sempre dico è chiaro che se il film dovesse essere perfettamente identico al romanzo di partenza meglio nel senso che evidentemente il romanzo di partenza riesce a funzionare anche da un punto di vista cinematografico è benissimo così ma non è necessario non è sempre necessario perché quando si vuole realizzare un film bisogna realizzare un film quindi il medium finale è diverso da quello che è il medium iniziale quindi la tragedia l'opera letteraria in questo caso che può essere anche un romanzo qualunque cosa deve per forza di cose essere adattata a quello che è il mezzo di comunicazione finale e in questo caso il cinema quindi ripeto non so quanto questo film sia fedele all'opera letteraria iniziale ma poco mi importa perché funziona a meraviglia quindi la sceneggiatura di questo film è dai tempi perfetti dura un'ora e 40 un'ora e 45 più o meno ma sembra durare 20 minuti mezz'ora perché scorre via in una maniera incredibile non ci si rende neanche conto di quello che del tempo che passa non ci si rende neanche conto di quella che è la successione degli eventi perfettamente calibrati perfettamente dosati tutto quello che succede nel film ha una sua importanza e ripeto messo in scena in maniera sublime quindi tutto quello che ci viene mostrato è un cioccolatino per gli occhi e quindi anche da un punto di vista della sceneggiatura non ho trovato alcun intoppo da un punto di vista di dialoghi perfetti da un punto di vista della narrazione perfetta per quanto riguarda anche i momenti tra virgolette più lenti perfetti anche quelli non vanno ad appesantire in alcun modo il film io non riesco a trovare difetti in questa sceneggiatura non riesco a trovare problematiche particolari in quello che è il film che di cui stiamo parlando in the tragedy of macbeth ho un po sondato il terreno in quella che la mia pagina facebook e non tutti sono rimasti entusiasti ripeto io non so quale possa essere la come dire il punto di partenza quindi non ho idea di quello che può essere appunto di quella che può essere l'opera letteraria shakespeariana di partenza quindi partiamo da quel presupposto che magari ci sono delle libertà ci sono delle cose che succedono in questo film che nel nel diciamo nella tragedia vera reale diciamo iniziale originale non non succedono non lo so questo non lo so davvero eventualmente scrivetelo qui tra i commenti se avete letto l'opera di shakespeare se avete visto questo film ma mi sta bene così mi sta bene così se dovessero essere presenti delle libertà creative delle libertà narrative mi stanno benissimo perché il film funziona e funziona a meraviglia e se funziona a meraviglia è dato anche è reso possibile anche da quello che è il cast che è stato scelto ora denzel washington e francis mcdormand credo che non abbiano bisogno di alcun tipo di presentazione non hanno bisogno di di quelli che sono i miei elogi perché stiamo parlando di pluri premiati agli oscar 2 per denzel washington 3 addirittura per francis mcdormand quindi c'è poco da dire non credo ci sia neanche bisogno di andarli ad esaltare ulteriormente perché non che sarei cioè non è uno spreco di tempo ma non trovo aggettivi adeguati a quella che è la loro bravura sono dei mostri sacri sono dei mostri sacri e hanno confermato ulteriormente in questo film quella che è la loro grandissima capacità recitativa sia denzel washington nei panni di macbeth sia francis mcdormand nei panni di lady macbeth bravissimi entrambi ma al loro fianco ripeto attorno a loro si muove un cast perfettamente scelto secondo me da anche in questo caso dallo staff di joel cohen nei quali appunto nel quale abbiamo la presenza tra gli altri del già citato rimailing il darsley di harry potter appunto brandan glison ma tutti tutti i personaggi in realtà sono perfettamente calati in quelli che sono tutti gli attori in realtà sono perfettamente calati in quelli che sono i personaggi da interpretare davvero il film funziona splendidamente anche soprattutto mi verrebbe da dire probabilmente per quelle che sono tutte le prove recitative che si possono ammirare in questa pellicola quindi tutti coloro che compaiono in questo in questo film in questa pellicola sono davvero ad altissimi livelli spiccano chiaramente quelli che sono i due giganti i due monumenti del cinema e cioè denzel washington francis mcdormand ma va bene così era anche prevedibile anche perché sono i due ruoli più importanti i due ruoli principali macbeth e lady macbeth davvero da applausi io ho visto probabilmente ripeto quello che è il film migliore di questa stagione cinematografica un film che già so so benissimo che entrerà a far parte di quella che è la top del 2022 e siamo ancora a metà gennaio perché è qualcosa di spettacolare visivamente esteticamente narrativamente per quanto riguarda la messa in scena le provatoriali la direzione registrica la colonna sonora tra l'altro non vorrei dimenticare anche quello le sonorità di questo film sono in grado di andare ancora di più ad esaltare quella che è la messa in scena quelle che sono le varie sequenze perché ci sono delle componenti prettamente musicali quindi delle delle canzoni diciamo delle delle musiche ecco più che altro una colonna sonora splendida con tutta una serie anche poi di sonorità quindi poi entra in gioco la componente del suono vero e proprio curato al minimo dettaglio quindi davvero non ho idea di che cosa poter dire di come dire di negativo di questo film al momento non mi viene in mente niente non mi viene in niente nulla probabilmente io guarderò nuovamente questo film nei prossimi nelle prossime settimane anche per poter rinfrescare la memoria in ottica oscar perché mi attendo mi attendo tante candidature per questo film staremo a vedere però al momento non riesco a trovare delle criticità non riesco a trovare dei punti negativi è un film che mi ha entusiasmato in maniera davvero genuina ed era forse da un po di tempo che non succedeva perché sì ne ho visti film bellissimi negli ultimi tempi ma così belli così entusiasmanti così accattivanti così meravigliosamente messi in scena no questo era da un po che non succedeva e devo fare i complimenti ripeto a joel cohen a tutto il suo staff perché non era facile secondo me non era semplice rendere proprio anche fruibile al cento per cento senza intoppi senza pesantezza senza in qualche modo dover in qualche diciamo anche far riferimento a quelle che sono le difficoltà tra virgolette che si possono incontrare andando a leggere quella che l'opera shakespeariana originale anche ripeto in persone come il sottoscritto che non amano granché la letteratura inglese non amano granché le opere di shakespeare non hanno mai letto fondamentalmente il macbeth quindi se tutto questo si è venuto a verificare nella mia persona penso penso che chi ha letto macbeth chi ha letto shakespeare chi ama quell'opera letteraria potrebbe davvero rimanere di sasso potrebbe ancora di più rimanere incantato da questo film quindi questa era la mia opinione chiaramente se avete letto il macbeth se avete visto questo film saprete sicuramente rispondere a questo mio interrogativo saprete rispondere a questa mia curiosità e fatemi sapere qui sotto tra i commenti quella che è la vostra opinione anche se non avete mai letto il macbeth chiaramente quindi se avete visto soltanto il film fatemi sapere qui sotto tra i commenti che cosa ne pensate qual è la vostra opinione su questo film perché davvero sono curioso di capire se questo film abbia colpito in maniera totale soltanto me o magari è una esperienza che è stata vissuta anche da altre persone quindi davvero fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate quindi questa era la mia opinione riguardo al film the tragedy of macbeth di joel cohen io vi ringrazio come sempre per l'attenzione che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video vi ricordo nuovamente le cose alle quali tengo particolarmente quindi iscrivetevi al canale ed attivate la campanella in modo tale da rimanere aggiornati su tutti i prossimi video ed in questo modo chiaramente mi aiuterete a far crescere ancora di più il canale come state meravigliosamente facendo e di questo davvero non smetterò mai di ringraziarvi e poi se mi volete ulteriormente supportare a costo zero con i vostri acquisti su amazon vi invito a farli utilizzando il link di affiliazione presente qui in descrizione perché a voi non cambia nulla non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata da amazon a sottoscritto ed infine vi ricordo anche la app i'm watching anche qui il link lo trovate qui sotto sia per android sia per ios ed è un'app che vi permette di scrivere le vostre recensioni lasciare i vostri giudizi magari anche su questo film approfondire anche le informazioni sul film di cui parliamo quindi anche the tragedy of macbeth potete creare le vostre personali playlist e se volete mi potete seguire anche lì perché mi trovate come doctor cinema quindi i'm watching link in descrizione scaricata ed eventualmente ci becchiamo anche lì io vi do l'appuntamento ad una prossima video recensione ad un prossimo video ma anche nella mia pagina facebook doctor cinema la quale vi consiglio sempre di iscrivervi vi auguro come sempre anche una buona continuazione di giornata e ci vediamo presto ciao a tutti